Se stai ricevendo problemi riguardo al DLC su Call of Duty Warzone, anche se provi a comprarli e a scaricarli e a gestirli direttamente sul DLC e non ti escono sul gioco, tipo gestisci 3 DLC, compro e installo così i DLC, vengono messi qua sopra, metto la spunta qua, scarico e installo, ma sul gioco non me li trova. Quindi vai direttamente sul gioco, vediamo direttamente sul gioco di Call of Duty, vai direttamente su Rotella, qua sopra, gestisci i file ed eccoli qua, tutti i DLC che tu puoi caricare e installare sul tuo computer, sempre attraverso Steam oppure Battle.net. Quindi a me mi dice di installare questo Modern Warfare 3, quindi mi dice installa e comincia a partire il download su Steam. Puoi installare questi altri Call of Duty, li puoi scaricare e installare senza problemi, basta che scelicchi sopra e te li installa direttamente attraverso Steam o Battle.net. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!